Il progetto Radici a scuola, promosso dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno e dalla trasmissione televisiva di Rai 3 Radici, arriva anche a Cosenza. Al progetto partecipa anche il Comune, che ha organizzato, insieme al Liceo Lucrezia della Valle, un incontro di sensibilizzazione sul tema dell'integrazione dei migranti. A portare il saluto istituzionale è stata la dottoressa Emanuela Greco, subcommissaria di Palazzo dei Bruzzi, in rappresentanza del commissario straordinario, il prefetto Angelo Carbone. Il Comune di Cosenza si era già occupato qualche anno fa di una tematica così importante, con il progetto a scuola di integrazione e convivenza, nessuno escluso, finalizzato proprio a favorire l'integrazione dei cittadini stranieri, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale dei più giovani. Ma come nasce questo nuovo progetto? Questo progetto nasce dall'esperienza che abbiamo fatto con i viaggi di radici, siamo stati in 14 paesi, abbiamo fatto 14 puntate che sono andati in onda su Rai 3 e abbiamo tanti protagonisti che vanno dal Senegal alla Bosnia-Herzegovina di cui parliamo oggi, dall'Equador alla Cina che ci possono raccontare il mondo, perché oggi il mondo ce l'abbiamo in casa, con l'immigrazione abbiamo persone dai quattro angoli del mondo che vivono nel nostro paese e l'idea è di raccontare questo mondo anche ai ragazzi nelle scuole, quindi non solo al pubblico della tv, ma anche qui alle generazioni del futuro. La protagonista della giornata cosentina di Radici e Scuola è stata l'attrice Nela Lucic, nata in Bosnia-Herzegovina e con la quale i ragazzi del Liceo della Valle hanno approfondito i temi legati alle persecuzioni, alla guerra in Bosnia e alle tradizioni e cultura del suo paese. Le radici sono anche una identità e senza radici sei in un certo senso senza la tua identità più profonda. Poi è bellissimo potersi muovere, andare, fare, girare, ma è bello anche portarsi questo bagaglio, questa impronta con te. Un reportage di Radici sarà presto dedicato a Riace, il paesino calabrese che in questo momento è al centro dell'attenzione mondiale.